Giornata marziale, questo è il martedì, abbiamo Marte, abbiamo Marte che sovrintende alla giornata in questo 3 di agosto, ma noi parliamo di angeli e parliamo di angeli segno per segno, come sempre con l'Ariete capofila. Allora vediamo che angelo gravita nella zona dell'Ariete quest'oggi ed è Shavakian che vi permette di essere voi stessi anche in mezzo agli amici, magari di fare tanti discorsi, un po' una giornata di quelle schiacchiera molto e si conclude poco. Per gli amici del toro c'è una buona notizia in arrivo, Raziel vi dice che alcune cose sono arrivate proprio a compimento, qualcosa che era già nell'aria. I gemelli invece con Gesalel devono riuscire a portare a compimento un'opera perché l'angelo già ce l'ha in mente, voi invece gemelli no magari, pensate di non riuscirci ma ce la farete. Cancro, per il cancro abbiamo Raffaele che vi suona l'allarme, che dice attenzione amici e fatevi magari aiutare da qualcuno se non riuscite, è un momento in cui avete bisogno anche di confrontarvi, di sentirvi con qualcuno. Leone, per il leone un viaggio, un attraversamento, una riuscita soprattutto grazie a Zad Kiel, l'angelo che vi accompagna come uomini nel vostro viaggio, come umanità. Vergine, nati sotto il segno della Vergine, fate tesoro come dice Sacchiel della vostra esperienza, è il momento proprio di usare la vostra esperienza e portarla a compimento. Bilancia, per la bilancia è Nathaniel che tira le fila in questo momento, vi sentirete un po' tirati anche voi, magari dai familiari, magari da un affetto, siete un po' legati. Per lo scorpione, Remiel cerca di darvi speranza, ma la speranza dovete trovarla dentro di voi e nelle vostre azioni, non chiedete agli altri la speranza, la speranza deve essere vostra. Sagittario, amici del Sagittario, incontri magari dal passato perché Metraton oggi favorisce malinconie e quindi ritrovi e rincontri. Capricorno, per il Capricorno ci sono azioni nuove da compiere, c'è qualcosa nel futuro che si intravede, grazie a un grandissimo angelo che è Gabriele. L'acquario oggi ha nel proprio cielo, Geliel come angelo, un segreto da custodire forse, qualcosa che deve ancora crescere, un semino da lanciare. Nati sotto il segno dei pesci, VUIA vi esorta a mantenere la vostra posizione, procuratela bene, che sia una posizione, una situazione che dovete riuscire a concepire, a prenderne coscienza proprio fino in fondo e se volete invece riprendere questo podcast, riascoltarlo, lo trovate su Radio Raccontiamoci, lo trovate sul fronte del blog, il vostro angelo, preciso quello proprio vostro, lo trovate su Angeli e Meditativazione. Consultatemi!